benvenuti ragazzi ben ritornati in questo sesto episodio della serie principale di minecraft come avete letto dal titolo andiamo a completare spero la statua ho recuperato anche il dark oak sono andato a trovare una van post dei pillager e diciamo che sono quasi morto per compagni qualche cosa visto che sono spawnati in masse e c'erano solamente non c'era un solo golem gli altri non mi ricordo come si chiami l'altro mob che dovrebbe essere pacifico vabbè adesso andiamo subito a fare la statua aspettate che vado a prendere perché non me ricordo a moria ecco dovrei lasciare un 4x4 libero e poi scendere ah intanto ho cambiato anche la palla perché si è rotta la palla rotta l'ho messa nel muso di sotto perchè 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 per quello che dovrebbe essere la una maschera dalla mia schiena come si può vedere devo innanzitutto fare 1 ok 1 2 3 4 5 e poi 1 2 4 poi adesso dovrò sistemarlo io adesso ancora di 2 e poi scendere di ancora 2 giusto si 1 2 e poi qui dovrebbe esserci l'occhio no no l'occhio è sotto che sarei qui per ricordare mi chiedermi qua c'è l'occhio faccio un bu ah vai via va c'è la famiglia qui dentro è andato anche all'arco che ho potenziato ho messo power 4 e infiniti che era su un altro arco che mi ha droppato un mostro ma bene apposta ok qui ci dovrebbe essere tutto adesso dovrei semplicemente trovare dei blocchi che assomiglino cioè blocchi grigi penso che io ce ne abbia ah intanto qui ho ingrandito ulteriormente la base cioè ingrandito ancora in fase di ultimazione però e lì c'è la storia del pappagallo perché mi è morto un pappagallo e ho deciso di fare questo stato per commemorarlo come faccio con la maggior parte dei pet che ho su minecraft e ho messo la ossidiana piangente che ho trovato e ho preso in quei portali che si trovano giusto mi dimentico che c'ho il mio pigman in camera che è arrivato oggi è uscito dal portale da solo quindi perfetto sarebbe da acqua da ricocere qualcos'altro non ce l'abbiamo però sarebbe bello farlo con questo che viene molto più carino secondo me viene più carino la tua popolazione il legno mi dice di darco che mi serve tu non scappare da copertino mi muore male vai 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 devo ancora collegare tutto con un ponte unifico con corso spaccare lì e mettere il punto devo fare un 4 per 4 più o meno da subito sis non lo so se quale la parte che dovrebbe essere ah no si si ho capito ci sono due blocchi qui che in sporgenze che sarebbero qui 4 e poi su metteci anche il blocco qui dove poterli fare ok qua c'è solo che per il colore nero che c'è nell'occhio non saprei che materiale usare qui ma qui c'è qua c'è l'occhio che dovrei avere una di quelle lampade dell'oceano che ho trovato perché qui lo dico subito è tutto completamente con i capelli quindi dovrei spaccare e rimpiazzare tutto dall'altro lato invece devo lasciare fare uno due vai di qui vai di qui una patata mangiamoci la patata molto bene devo fare uno sarebbe uno due poi uno due tre e quattro il resto sarebbe tutto da colorare perché in realtà devo trovare dei blocchi potrei usare quelli di ferro in effetti che dovrebbero rendere di più l'idea perché qui devo fare la quella che praticamente è bianca è bianca come come la nera nella mia skin dovrebbe essere tre blocchi l'occhio giusto si poi qui do metterci delle altre cose e ma giusto qui allora secondo me con i blocchi di ferro rende meglio l'idea dovrei ormai una costante cadere continuamente dai dai vari palazzi dovrei averlo del ferro a voi tutto quello che ho preso in miniera nel dubbio io ne faccio qualcuno in più scusate che ho trovato ho trovato altri due template altri due template se non mi ricordo dove adesso però e poi ho trovato il corno ah si nell'avamposto di pillager l'ho trovato l'altro template ah no mi sa che devo ma posso passare anche da qui oppure non si no non si può ah si si può a me è pure più comodo vabbè andiamo subito qua 1 2 spacca qua 4 qui 1 2 3 e 4 serve qualcosa di un peletto più grigio ah si giusto la stone c'è andiamo su ok ho anche dovuto cambiare perchè a quanto pare ci sono i creeper che salgono le scale non l'avevo mai vista un creeper che sale le scale tu rimani qui e non scappare ah per no anche questo che dovrebbe illuminare oh forse è meglio no se dai è meglio no se va bene stai qua andiamo a dormire perchè è notte prima che mi spawnano altri mob e poi sclero vabbè ci vediamo quando ho finito ok eccomi qui ritornato ho sistemato di fare la testa qui come potete vedere ho messo tutti quanti i capelli con il legno con il dark ok alle mani ho messo i pezzi di iron per farlo sempre fare i tagli principali il resto lo volevo lasciare così con il legno perchè era proprio il risultato che volevo ottenere per la statua adesso devo spaccare qui la la che ho fatto magari se me la raccomi senza laggare ok sono a posto quindi si 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 direi che nel prossimo episodio andremo a cercare la fortezza del nether in modo da poter finalmente cercare la stronghold e andare nel land cioè andare speri ieri tavola e andarci il più lontanamente possibile perchè l'ender dragon è una è una bella è bella tosta vabbè direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao